Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Andrea Biagioni. Trappico al momento regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. In A15 si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti e scambi di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni, tra Berceto e Pontremoli. In Fipili invece si segnala che per lavori sulle barriere acustiche è stato prorogato fino al 31 dicembre il restringimento di carreggiata tra Firenze e Firenze Scandici in direzione mare. Uno sguardo sul raccordo sia in Firenze, anche qui a causa di lavori restringimenti e scambi di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni, tra San Casciano e l'allacciamento con la 1. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!